Dal 705 iniziarono le scorrerie dei corsari musulmani nel mar Mediterraneo. L'esercito bizantino si rese conto di non poter più difendere i possedimenti sardi, così si ritirarono abbandonando la Sardegna a se stessa. Gli arabi cercarono di entrare con forza, ma i sardi resistettero. Fu allora che il re Longobardo Liut Brando inviò alcuni messi a Cagliari per portare via le spoglie di Sant'Agostino, custodite nella chiesa a lui dedicata. La Sardegna, restata sola a combattere gli invasori, dovette rendersi economicamente e militarmente autonoma. I capi bizantini diventarono capi di quelle che un tempo erano state province bizantine, chiamando se stesse giudici, diventando in questo modo sovrani di quattro piccoli stati, i giudicati. A questo punto la Sardegna divenne decisiva, perché si trasformò in un confine fra il mondo latino e l'Islam. A questo punto la Sardegna divenne decisiva,